Ciao a tutti, sono Valentina Talienti e proseguiamo oggi con la nostra rubrica dedicata ai luoghi del cuore di Foggia. Parliamo della Chiesa di Gesù e Maria, luogo per me denso di ricordi perché qui ho fatto la comunione e la cresima. La sua imponente facciata mistilinea svetta sulla piazza antistante, piazza Umberto Giordano, ed è visibile già dall'inizio del corso principale della città con cui è posta in asse Corso Vittorio Emanuele II. Recentemente è stata abbellita con un notevole portale in bronzo scolpito con figure ad alto rilievo di Gesù e Maria, opera dell'ormai defunto artista foggiano Michele Maria Pernice. L'epigrafe posta al centro del timpano sul portale reca la data 1738, anno di ricostruzione della chiesa a Fundamentis dopo il terribile terremoto del 1731. La chiesa è in realtà più antica, risale al 1510 quando arrivarono in città i frati conventuali francescani dell'Ordine dei Frati Minori e fondarono anche un convento che fu tra i più grandi della città, tra i primi d'Italia e nel 1600 centro di studi filosofici e teologici, tanto importante da meritare il titolo di reale convento da parte del re di Spagna Filippo IV nel 1664. L'interno della chiesa custodisce bellissime opere, tele e sculture del 1600 e del 1700. Ci soffermeremo solo su due dei capolavori che si possono ammirare nella chiesa, la cupola che si va sul presbiterio e che è coperta all'esterno da una tessitura maiolica molto bella e la via Crucis che abbellisce la navata centrale. La cupola è tanto importante da essere descritta da Mimma Pasquilli Ferrara come l'unico ciclo di affreschi integro della città di Foggia firmato e datato da Nicola Lersotti nel 1754. Presenta una gloria francescana nella cupola, quattro bellissime figure di apostoli nei pennacchi e un altrettanto notevole esempio di quadraturismo, cioè di finta architettura nel tamburo. È possibile avvicinare questa cupola alla bellissima cupola del cappellone di San Cataldo nella cattedrale di Lecce, opera di Paolo de Matteis, poiché Nicola Lersotti probabilmente si ispirò a quest'opera nella realizzazione della gloria francescana che possiamo ammirare appunto nella chiesa di Gesù e Maria. Nella navata centrale invece ammiriamo la via Crucis di Domenico Preste. Un insieme di quattordici tele ovali incastonate in cornici a stucco dorate con cartigli recanti il numero e il nome della stazione e una croce di consacrazione nella cimasa abbelliti ancora da plic in cristallo che fanno pandan con i lampadari nelle arcate e che col loro sfaviglio di luci stanno quasi a contrasto con i toni scuri delle tele che risentono di quel barocco di derivazione caravaggesca che è tipico di quegli anni. Domenico Preste, l'autore di queste bellissime tele, è un artista molto attivo a Foggia, colui che affrescò la Cappella Celentano, prezioso scrigno barocco purtroppo andato distrutto durante i bombardamenti del 43, è anche autore di due tele a firma Domè Preste che si possono ancora ammirare nella sala del tesoro della cattedrale e che rappresentano un San Francesco e una Santa Chiara. Bene, per oggi è tutto, anche questa volta abbiamo concluso, vi ringrazio dell'affetto con cui mi seguite e arrivederci a presto. Grazie a tutti.